Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti nel mio canale. In questo video vi voglio parlare dell'Avon Running. Scusate la voce. Praticamente ieri, io e mia sorella e il suo fidanzato, siamo andate a Milano per partecipare a questo raduno. Raduno, si fa per dire. Più che altro era una manifestazione a scopo benefico contro la lotta al tumore al seno. C'erano sia donne che uomini. Abbiamo più di 100.000. No, filo! Aspettate un attimo. Eccomi. Scusate, ma c'era l'una che ha perso il giochino. Allora, stavo dicendo. Ah sì, eravamo più di 100.000. Eravamo a Parco Sempione. Era il... Il coso, sì. Era l'uno, era lì. E siamo partiti, insomma, da Parco Sempione. Abbiamo fatto tutto a Milano. Tutto l'altro centro di Milano. Siamo passati davanti al Duomo. C'era un po' di casino perché c'era anche l'Expo. Siamo arrivati, abbiamo fatto l'iscrizione. C'è andato una borsina, perché per l'altro non era una sacca. Ma siccome le tacche erano finite, c'è andato un sacchetto di carta. E adesso, niente. Avevamo in questo sacchettino qui, questo qua, c'era dentro una maglietta. Maglietta. La maglietta è il numero. E delle caffette per con cui attaccare il numero alla maglietta. E... Niente, io mi sono divertita tantissimo. Ho cambiato, ho cambiato, ho fatto 5 chilometri perché c'era la 5 chilometri e la 10 chilometri. La 5 chilometri era non competitiva e la 10 chilometri, sì. Si poteva correre, camminare. C'erano anche persone con i cani, persone con i bambini, insomma. E ho cresciuto anche un po' di sole. E adesso vi faccio vedere che cosa ci viene a scuola. Allora, in questa sacca ci sta praticamente un detersivo delicato della Chanteclair, il genizante per il bucato del tuo bambino, mano in lavatrice, il poliogenico testato, insomma questo qui, è una scuola di 60 ml. E cosa ho scritto? Bebè, detersivo delicato, Chanteclair, bebè, detersivo delicato, formula non testata sugli animali, per emergenza e chiamare Centro Antiveleni Milano. E... è una scuola di 60 ml, solo una scuola di 60 ml, con una scadenza di... Niente, questo qua, insomma. Poi, che altro c'è? C'è un bonus conto del valore di 10 euro, su un... sul... questo... aspettate, non è che mi... su Maxi Sport, che certo, c'è magari giro, questo, Maxi Sport, e sulla maglietta c'era scritta questa cosa qui, Il mondo è davanti a te, corre il 18esimo... 18esimo anniversario, questo. Poi, questo era il modulo di iscrizione, Milano, 5-10 km non competitive, e facciamo 10 km non competitiva, come vi ho detto poc'anzi, noi abbiamo fatto a 5 km non competitiva, 24 maggio, Piazza del Castello, partenza ore 10. Insomma, questo era il... 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 il foglietto dove con cui iscriversi. modulo di iscrizione, Avon Running 2015, la corsa delle donne, passeggiata ludico, motoria e ricreativa. Quasi nome e cognome, sesso, desidera partecipare, 5 km, 10 km, e poi la quota di partecipazione, che erano 12 euro. Poi, una brochure sui... su uno snack fuori pass, uno snack... uno snack con 50 centesimi di sconto sul prossimo acquisto. Poi, sta dentro, un campione gratuito da 200 ml, di questo Chanteclerbert, effetto antico, ciavesi, multiuso, eco-detergente, 100% attivi di origine vegetale, senza origini, il Nike al test. Questo qui. Questo e questo qua. Poi, ci stava questa... non si può dire qui... questa barretta, della Soi Joy, Soia e frutta, con biancospino e goji. Questo qui. Poi, dentro, ci sta... pello che non è full-size, sono praticamente... cioè, non è mini-size, volevo dire, è un po' più full-size, 250 ml, di questo Avon Senses, cos'è? Una crema da doccia idratante, all'orchidea e raspberry. Questo qui. E poi, dentro, ci stava un... biscotti... due biscotti... della Mac Beatty's Digestive. Poi, vabbè, scusate un attimo, dovevo vedere cosa c'è. Non è. Un... Allora, praticamente, un buono sconto del 20% su un acquisto di un orologio Timex. A tutti i parti, partecipiamo all'Avon Branding. Poi, una in volantice. Un catalogo di campagna 6. Poi, un catalogo di campagna 7, con il profumo nuovo, questo qui, del Far Away da 100 ml. Che c'è, Luna? Che c'è? Non mi viene su. Non mi viene su. Non mi viene su. Brava. Ecco. Poi, a Ferman, eh. Ehm, questo volantino di sideralzolico, per il... terra. Comunque, guardate quanto è cresciuta la Luna! Oltre, è diventata grande la tuona! A 6 mesi, è diventata una besta di cane! Non è sicuro, dai, Liz! Bene, stavo dicendo. Vai. un'altra brochure, maio, di questa crema per il massaggio. Beh, dopo, l'una dopo. un buono sconto di 2 euro sull'acquisto di 2 confezioni di Yakult, che l'abbiamo assaggiato, è buonissimo. uno sconto di 15, del 15% su un acquisto di Tucano Sporting. Poi, un'altra brochure, maio, questo rossi, qui. Poi, poi, un'altra brochure sull'autori Goldi. Ah! Sempre a Milano, logico. Dopo che è venuto! Ah, sì! Poi, questo è il numero che avevo io sulla maglietta. Un altro buono sconto di 2 euro, sempre sulla costa di due confezioni di Yakult. Poi, c'è una brochure su Corea Parco, i consigli per liberare le anni in Dallena Paese Verdi di Milano. Visto lì. C'è nessuno di tutti i percorsi. Quanto. altro. No! Ah! Poi, c'hanno, nella sacchettina, c'erano 20 pastiglie, cioè, sto qui, che sono Agropos, Gola Defense, pastiglie, proteggono la gola alleviando la sensazione di dolore. Dispositivo medico, 20 pastiglie, gusto mentolo e fraolictolo. Praticamente, sono 50 grammi, senza glutine, e sono delle pastiglie per il mal di gola. Cioè, sono proprio confezioni gigantissime, confezioni non solo dei campioncini profumi. Poi, dei campioncini profumi e andavate così. poi c'erano anche le graffette con cui attaccare il numero alla maglietta. E adesso, ah sì, poi anche questo integratore alimentare di sidera al folco da 1,6 grammi. Adesso vediamo i profumi che ci hanno dato. dunque, un campioncino di titlia dei Dream e del parfum. va, forse non si è aperto. Mesmerai black for for here è un addettoletto. Mesmerai black dopo, Luna, dopo. Luna, ti fai male. Avonfemme. Questo è Daydream. E Ayo è ancora Mesmerai black. E un campioncino di profumi di rossetto che si chiama Poppy Pink che è questo qui. Non so quanto riuscite a vedere dalla videocamera, però comunque questo qui. E niente, questo era tutto quello che ci hanno dato. Dai, vieni su. Ah, Gio. Niente, questo era tutto quello che ci hanno dato alla manifestazione di ieri. Niente, spero che il video vi sia piaciuto e magari vi sia stato stato utile per l'anno prossimo. Se riesco, magari l'anno prossimo viene anche questa bestia, questa questa cagnolina tanto carina tanto tormentata. che è su. Ci, ci, da me tanti bacini. Niente, io e Luna vi salutiamo. Ciccia saluta, Ciccia saluta. Ciccia saluta. Ciccia saluta. Non mordere, saluta. Cosa fa? Eh, sì, mordi, mordi, sì. Mi, 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 ci vediamo al prossimo video. No! Ciao ragazze! Ciao ragazze! Ciao ragazze! Ciao ragazze!